Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise per il calcio di Serie D. I risultati? Avezano, Fabriano, Cerreto 0-0, Campobasso, Castelfidardo 0-0, Iesina, San Nicolò, Teramo 2-3, L'Aquila, Francavilla 0-0, Matelica, San Giustese 4-2, Pineto, Monticelli 2-1, Recanatese, Olimpia, Gionese 3-3, Rinviata, San Marino, Nero, Stellati, Vastese, Vispesaro 0-2. In testa c'è sempre il Matelica a quota 60, segue a 56 la Vispesaro, Avezano 43, Castelfidardo 42 a 40 la Vastese, San Marino 38 con l'Aquila e il Francavilla, Pineto 37, Campobasso 36 punti, San Giustese 35 a 28, il San Nicolò, Teramo, Recanatese, Iesina 25 punti, Olimpia, Gionese 24, Monticelli e Fabriano Cerreto 18 punti, chiude a quota 8 il Nero Stellate. Gara a reti inviolate tra Campobasso e Castelfidardo, il Campobasso avrebbe meritato sicuramente l'intera posta in palio, negato anche un calcio di rigore. Partita intensa e combattuta Campobasso-Castelfidardo, i Rosso Blu confermano la loro salute ottimale, tantissime pallegole costruite, manca solo quella giusta, il Castello accompagnato da 40 tifosi, si dimostra squadra quadrata e bella sorpresa. Del Girone si gioca di fronte a 300 spettatori infreddoliti, arbitraggio discusso quello del signor Catallo di Frosinone, la Curva Nord rende omaggio a Michele Scorrano, capitano di tante battaglie con la maglia Rosso Blu a nove anni dalla sua scomparsa. Poca cronaca nei primi minuti se si eccettuano tre corner battuti da Gerardi del Campobasso, mentre si registra al diciottesimo la prima sortita ospite con il cross di Terrenzio e l'impatto di Landi che toglie la sfera dalla disponibilità di pedalino. Grossa occasione al ventunesimo per Gomez, servito benissimo da fermo da Gerardi, palla alta sopra la traversa, Campobasso che cerca di fare la partita e si scuote al ventiquattresimo, tiro secco di Amabile murato involontariamente da Balistreri. Solo trenta secondi più tardi è Strianese a calciare fuori di qualche metro, ancora la squadra di casa pericolosa al ventisettesimo quando si crea lo spazio giusto per Del Prete che calcia sull'esterno della rete, Vagnoni del Castello e stromette al trentatresimo Massi per far entrare Montagnoli. Gli anconetani passano così al 4-3-3, soltanto un minuto più tardi nessuno è in grado di stoppare Strianese, corsa sfrenata fino in area quando conclude con presa di Selvaggio. Ospiti che non pervengono a Selvapiana mentre i rosso-blu costruiscono palle gol a Iosa, compresa quella del trentasettesimo e Gomez a sporcare benissimo un angolo di Gerardi, straordinaria risposta di Selvaggio. Un minuto ancora, i lupi vogliono un calcio di rigore, lo stesso Selvaggio investe Balistreri in piena area, i frusinate Catallo fa capire di giocare, episodio che manda su tutte le furie anche il presidente del campo basso Leone. I rosso-blu salgono di tono al 41esimo Staglio di Strianese, testa di Delprete presa di Selvaggio, al 45esimo incursione di Montagnoli che va via Gomez ma è sfavorito da un rimpallo dal primo della ripresa in campo Macaia al posto di Augustus che si fa male a fine prima frazione, sospetto stiramento per lui. Al terzo, Balistreri è lanciato a rete e viene fermato in maniera molto dubbia da Ghiani, nessun provvedimento viene adottato dall'arbitro. Altro dubbio al sesto, cross perfetto di Strianese in area, spinta di Borgese ai danni di Gerardi, anche qui si può correre secondo la visione arbitrale. Un minuto più tardi, proteste lievi del Castello che reclama un braccio di Del Duca dopo un cross dal fondo di Pedalino, nessuna irregolarità. Fase molto accesa della gara all'ottavo contropiede magistrale del Campopasso, cross da destra di Strianese, sforbiciata di Balistreri e presa a terra di Selvaggio. Il costrutto di casa non trova il coronamento al dodicesimo cross di Delprete, inserimento aereo di Strianese fuori misura. La gara è più aperta e bella, al 14esimo corsa inarrestabile a sinistra di Trillini che va via come un treno, il cross tocca la parte alta della traversa. Che occasione al quindicesimo per i locali da Gerardi, corridoio per Delprete, tutto bene, tranne il tiro abbastanza strozzato. Doppia sostituzione, una per parte nei marchigiani, fuori Calabrese, dentro Bordi, Foglia Manzillo e stromette Strianese ed inserisce Elefante. Due occasioni incredibili a testa, la prima per i locali al 33esimo quando Marzano scocca un sinistro sporcato da Terrenzio. Selvaggio compie un intervento ai limiti del miracoloso per evitare la rete, mentre al 35esimo i marchigiani con Montagnoli sfiorano il gol. Il suo diagonale vede il palo da pochissimi centimetri. Il recupero che si annuncia corposo anche a causa di interventi di manutenzione alla rete della Porta di Landi intorno al 40esimo della ripresa. Al novantesimo esatto punizione di Ribeiro, entra con i tempi giusti Gomez ma non angola il colpo di testa. Comandati sei minuti di recupero succede molto poco, solo un infortunio a Marzano. Proprio allo scadere si gira la caviglia del centrocampista di casa. Finisce senza reti una partita dai ritmi davvero molto alti. Al Castello è un punto che sta bene, meno al Campobasso che migrerà a Napoli per preparare la prossima sfida interna contro la Re Canatese. È terminata con un pareggio la partita tra Re Canatese e Olimpia Agnonese. Al secondo minuto il vantaggio dei locali con l'autorette di Cassese. Il pareggio dei Molisani con Corbo, ancora locali avanti al 41esimo con Pera. Il primo tempo è terminato 2-2 grazie al gol di Frabotta nella ripresa ancora Pera e poi Niang per il 3-3 definitivo. Intanto la partita Campobasso-Re Canatese, valida per la 26esima giornata di Serie D Girone F, è stata posticipata a sabato 10 marzo alle ore 14.30 la gara. Si sarebbe dovuta giocare domenica prossima. Entrambe le società hanno così dato seguito alla possibilità concessa dalla Lega Nazionale di Lettanti di cambiare la data della partita in relazione alle elezioni politiche di domenica prossima. quindi Campobasso-Re Canatese non domenica prossima 4 marzo, ma sabato l'altro 10 marzo. Adesso il basket maschile di Serie B. 24esima giornata nel Girone D della Serie B. Barcellona Basket Dynamic Venafro 82-64, il Globo Esernia Costa d'Orlando 82-102, Pallacanestro-Palestrina-Cagliari 94-82, Catanzaro-Scauri 101-77, Sport e Cultura a Patti, Bottecone-Sant'Angelo 62-94, Tiber Basket Roma-BNL-Luis-Roma 76-94, Virtus Cassino-Batti-Pagliese 74-63 e Valmontone-Stella Azzurra-Roma 76-86. Per una classifica che vede in testa ancora il basket Barcellona a quota 40, si può 38 palestrina, 36 per il Cassino, 34 troviamo Sant'Angelo e Valmontone. Per quanto riguarda le molisane, viste la sconfitta, rimangono ferme in gradatoria. Dynamic Venafro sempre a 14 con il Cagliari, sempre ultima il Globo Esernia a quota 4. Il Globo Esernia ha ceduto al Capo d'Orlando, i siciliani erano alla portata dei ragazzi di Canzano, ma il nervosismo ha avuto la meglio, 4 i falli tecnici fischiati ai molisani, 1 a Smorra quando l'Esernia era risalita fino a meno 6. Siamo con il coach Corbo, il coach in seconda di Mimmo Canzano, ci tocca commentare questa sconfitta con il Capo d'Orlando, forse fa più male perché magari è un avversario abbordabile con il quale poter fare punti. Sì, sicuramente è una sconfitta che fa molto male perché oramai siamo agli sgocci, ci mancano pochissime partite e il Capo d'Orlando era una squadra alla nostra portata. Infatti comunque siamo rimasti in partita tutto il primo tempo, anche il terzo quarto, poi purtroppo un pochettino la pressione, un pochettino altre situazioni, siamo fatti fischiare contro 4 falli tecnici che hanno condizionato l'andamento della seconda parte della partita e loro poi sono stati bravi a punirci sempre. In quale dei quarti secondo lei si è persa la partita? Più che all'interno dei quarti perché magari come parziale potrebbe essere in considerazione il primo perché siamo andati sotto di 14, poi dopo siamo rientrati, siamo stati a contatto. È stata la nostra mancanza di lucidità e capacità di tenere nervi saldi perché 4 tecnici in una partita così importante poi alla fine li paghi e il punteggio lo testimonia. Quindi il cerchio ovviamente si stringe, è una sconfitta che pesa i suoi fini, però è chiaro bisogna dimenticarlo al più presto, partire perché la settimana prossima bisogna tornare a fare punti. Sì, fra due perché abbiamo una sosta. Non è inutile nasconderci, è complicatissima, è durissima perché per avere possibilità dobbiamo vincerne tre e ne mancano pochissime. Speriamo che in queste due settimane riusciamo a ricaricare un pochettino le batterie e cercare di sopperire tatticamente e tecnicamente la partenza di Razzi che chiaramente è un giocatore di assoluto valore, gli auguro il meglio, però noi dovremmo cercare di ovviare la sua assenza. Adesso la C-Silver. 22esima e ultima della prima fase del campionato di C-Silver. Erino Basket, Termoli, Aquilano 93 a 58, Basketball, Teramo, Torre dei Passeri 85 a 88, Magic Basket, Chieti, Nuovo Pineto 89 a 64, Campli, Silvi 70 a 74, Pescara, Teramo, Aspicchi 57 a 71, Vasto, Olimpia, Mosciano 66 a 49. Classifica definitiva quindi, Magic Basket, Chieti 36, Vasto 34, Silvi 32, Nuovo Basket, Aquilano 30, 28 troviamo l'Areino Basket, Termoli insieme al Teramo, Aspicchi, Torre dei Passeri 18, 16 per il Pineto, 14 Olimpia, Mosciano 12, Campli, chiunano a quota 8, Pescara e Basketball, Teramo. Pallavolo maschile di serie C, sconfitta al tie-break per la Laborvetro Campobasso nella trasferta di Ortona, i molisani sono saliti a quota 23 in classifica, in serie D femminile 3 a 0 per la nuova Pallavolo Campobasso contro il Cordigeri, calcio a 5 di serie B, i risultati. Diciasettesima giornata nel girone F, Chaminade, Capulso 7 a 2, Fuzz al Canosa, Giovinazzo 7 a 8, Fuzz al Ruvo, Altamura 5 a 2, Manfredonia, CLN, Cus Molise 2 a 2, Real Dem, Tombesi 2 a 5, Sagittario Pratola a Trico, Cassano 6 a 1. In testa a quota 43, Tombesi, Ortona, segue a 34 il Sagittario Pratola, 33 per il Cassano, Chaminade 29, Giovinazzo 26 a 24, troviamo il CLN, Cus Molise, insieme a Fuzz al Canosa, di seguito tutte le altre. Vittoria agevole della Chaminade contro il Capurso per restare nella scia playoff. Paolo Pizzuto, dunque, tre punti dovevano essere, tre punti, insomma, sono stati, perché avevate voglia di ripartire dopo la sconfitta di Ortona? Il risultato è quello che abbiamo cercato e alla lunga ci ha premiato, però siamo partiti comunque un po' in difficoltà, forse, un po' ancora con gli strascichi della partita precedente. I ragazzi non mi sono sembrati particolarmente brillanti, un po' troppo sotto ritmo e quindi la partita è stata in bilico fino al 3-2 e poi nel secondo tempo alla lunga anche la possibilità di cambiare la rosa un po' più ampia rispetto agli avversari ci ha permesso di allargare il divario. Assolutamente, cinque partite alla fine del campionato, della regular season, insomma, probabilmente le prossime due saranno indicative in chiave playoff perché avete Canosa fuori e Giovinazzo dentro. Sì, sono le partite più importanti che in questa fase della stagione ci aspettano e le più determinanti sicuramente e saranno intervallate da questa occasione, opportunità di affrontare una squadra di Serie A. ma ritengo che l'obiettivo comunque restano le partite del sabato che sono quelle che possono dare una definizione più precisa alla classifica e quindi è importante gestire le risorse e farsi trovare pronti soprattutto già dalla prossima a Canosa, campo molto difficile. Adesso i campionati regionali di C1 e C2 Diciottesima giornata nel campionato di Serie C1 Fossaltese, Cerce Maggiore 5-3 Montenero, Saracena è stata rinviata per l'impegno di Coppa della Saracena Camarin, Real Venafro 2-4 rinviata Mirabello a Esernia Virtus Castel Pagano, Robura, Rognone 7-3 Sestese, Arcadia Termoli 6-0 42 Saracena, 40 Sestese, 36 Sernia insieme al Real Venafro Fossaltese 31-26 C'è Lagnone Mirabello 23-18 per il Castel Pagano a 15 C'è l'Arcadia Termoli Montenero 13-12 Camarin ultima a quota 10 Real Cerce Maggiore Sedicesima giornata in C2 Castel del Giudice Cassiopea 16-5 Roccaravindola Pietrafuzza 2-6 Colle al Volturno, Montoreoni, Frentani 5-4 Montes, Montagano, Petrella 2-6 Riccia Sestese 7-4 Vinchiaturo Frosolone 1-2 Il Frosolone resta in vetta a quota 40 segue a 39 il Colle al Volturno 35 per il Montoreoni e Frentani 34 Montagano, Petrella 33 Castel del Giudice Pietrafuzza 24-24 Riccia 21 Sestese 15 Vinchiaturo 12 insieme a Cassiopea 9 per Montes ultima a quota 6 Roccaravindola Street Soccer per ragioni meteorologiche la terza giornata del campionato 3-3 prevista per stasera al Palau Unimo l'estata rinviata a lunedì 5 marzo ora i risultati dell'eccellenza Campo Basso 1919 Campo di Pietra 0-2 rinviata a Sesto Campano Boiano Vasto Girardi Frentani a 3-0 rinviata a Life Guionesi Gambatesa Vulcani a 3-0 Esernia Treppini Matese 2-0 Riccia Venafro 3-0 rinviata Termoli Spinete In Antessa c'è l'Isernia a quota 59 Segue a 56 il Basso Girardi Venafro 45-44 per il Termoli Guionesi 35-3 Pini Sporting Matese 33 punti Olimpia Riccia 31 Campo di Pietra 28 Frentani a 26 Gambatesa 25-23 per il Sesto Campano a 20 Boiano e Vulcani a 19 la Life Spinete 14 ultima a quota 12 Campo Basso 1919 Una doppietta di Iaboni ha regalato i tre punti a Lisernia contro il Treppini Big match della settima giornata di ritorno all'Ancellotta tra Isernia e Treppini Matese Fin dalle prime battute si capisce che l'incontro sarà cerso e avvincente Ricordiamo che gli ospiti devono fare a meno del loro uomo rappresentativo napoletano fuori per squalifica situazione formazione complicata anche per mister Di Rienzo che non ha disponibili tra gli altri anche Fazio e Saulino E la prima a farsi avanti è Lisernia al terzo minuto con Contestabile che però indirizza solo un debole tiro verso la porta difesa da Gallone Il gioco resta lontano dalle due aree e per annotare qualcosa di interessante dobbiamo aspettare il sedicesimo minuto di gioco quando Ginestra crea il primo brivido a Lisernia con questo diagonale che però termina fuori Al ventesimo Contestabile protesta per questo episodio con Riccio che il signor Cardella non ravvisa in regolare Intanto il Treppini non regala nulla a Lisernia anzi non disdegna le ripartenze e conclude qualcosa in più rispetto agli avversari e vediamo al ventisesimo Palumbo che in girata stampa la sfera sull'esterno del palo facendo solo tremare la porta difesa da Biasella dopo qualche minuto ecco anche la conclusione di Langellotti Biasella la tocca e quindi solo un corner per i Treppini Lisernia non trova condizioni ottimali per avvicinarsi alla porta di Gallone e le cose si complicano con l'infortunio di Minichiello classe 99 che esce dal campo con l'ausilio della Barella e quindi Lisernia che resta in 10 non avendo altri under a disposizione e dunque in quello che sembrava il momento più favorevole per il Treppini arriva l'episodio che sblocca il risultato l'uscita di Gallone su Iabboni vale il giallo per il portiere ospite e il rigore per Lisernia a trasformare ci pensa lo stesso Iabboni Gallone tocca ma nulla può al 48esimo calcio piazzato di Mastropietro nella mischia arriva il palo interno di Mandolfo ma viene anche ravvisato un fuorigioco sull'1-0 di casa dunque si guadagnano gli spogliatoi a ritorno in campo il Treppini non demorde e con le immagini di Danilo Scarinci vediamo come continua a cercare il pareggio e ci prova al decimo minuto con Cuccio Lillo che non riesce a dare la giusta forza alla conclusione al 22esimo L'Angellotti si trova a tre piedi una palla d'oro per il Treppini ma Biasella si distende e blocca al 23esimo Iaboni riceve da Di Matteo la sua girata è vincente e mette al sicuro il risultato ma il Treppini non demorde e insiste in fase offensiva Biasella annulla ogni sforzo al 44esimo ancora i campani in avanti a tu per tu con Biasella Cerriccio che trova solo un corner per il Treppini termina così l'incontro il Treppini esce dal campo con i complimenti anche degli avversari per come ha retto il campo Lisernia dal canto suo porta a casa la 19esima vittoria su 22 partite ma soprattutto i tre punti che la riportano in metta alla classifica Davvero inarrestabile la marcia del Riccia che ha superato anche il Venafro centrando il suo sesto successo consecutivo anche il Venafro si inchina alla legge del Poce l'Olimpia Riccia suona la sesta e continua a volare verso la zona nobile della graduatoria la formazione di Mario Cordone offre una prova superlativa sotto tutti gli aspetti e conferma di poter giocare alla pari con chiunque dirige Petraglioni di Campobasso con le immagini di Marco Iannetta passiamo alla cronaca pronti via ed è subito l'Olimpia Riccia al terzo del Zingaro l'angeto in profondità conclude verso la porta la sfera fuori passano tre giri di lancette ed è Pellegrino a procurare i brividi alla difesa bianconera il suo cross è deviato l'undici di casa continua a spingere e al minuto undici Morsillo con un tiro cross chiama al grande intervento Roncone che ha Zen Corner il gol è nell'area arriva al quindicesimo Moffa lanciato in profondità da del Zingaro si trova tu per tu con Roncone e viene atterrato dall'estremo bianconero per Petraglione è calcio di rigore sul dischetto va il capitano Morrone che non sbaglia Olimpia Riccia 1 Venafro 0 la risposta del Venafro arriva al trentunesimo Patriciello colpisce di testa la sfera carambola su Federico Di Lallo che appoggia all'indietro per Nunziata nella circostanza l'attaccante del Venafro protesta per un presunto fallo di mano del giocatore dell'Olimpia Petraglione non è dello stesso avviso e lascia giustamente correre minuto 38 Panico tira in maniera magistrale un calcio di punizione Nunziata vola deviare in corner nel finale di tempo si fa vedere ancora in riccia e Mauro del Zingaro con un bellissimo colpo di tacco a colpire la traversa in avvio di ripresa succede di tutto dopo due minuti di gioco Morsillo serve con il contagiri Mauro del Zingaro in profondità il numero 10 di casa batte per la seconda volta Roncone facendo esplodere di gioia il poce gioia che per l'attaccante dura poco però perché prima della ripresa del gioco gli animi si scaldano e a farne le spese è la stessa punta che becca il secondo giallo finendo anzitempo sotto la doccia la superiorità numerica del Venafro dura però soltanto 6 minuti all'ottavo infatti Galardi entra in maniera scomposta su Palmieri per Petraglione secondo giallo ed espulsione ristabilita la parità numerica l'Olimpia Riccia continua a comandare le operazioni al 26esimo Cala il Tris Morsillo lanciato in profondità si invola verso l'area di rigore solo davanti al Roncone lo supera con un tiro preciso Olimpia Riccia a 3 Venafro 0 minuto 29 si fa vedere il Venafro sulla sponda di Padricello panico conclude ma la sfera si spegne sul fondo nel finale di tempo il Venafro ha la grande chance per realizzare il gol della bandiera ma un zontuso non siata si oppone da campione sul colpo di testa ravvicinato di Sam Sam finisce con il Riccia in festa con la salvezza o mai a portata di mano la formazione di Mario Cordone può sognare ad occhi aperti mentre il Venafro dovrà cercare di ripartire dalla gara contro la Lise ora il campionato di promozione Comprensero Verano Cliternina 0 a 0 Matese Molise 1 a 0 Carovilli Termoli 2 a 1 Pietramonte Corvino Varanello 3 a 0 Ferrazzano Castelmaro 0 a 2 Rinviata Chieuti Sant'Egliana Roseto Rocca Sicura 5 a 2 Ururi Casanovo Monte Rotaro 2 a 1 Il Matese Il Matese apre a quota 50 Sigo a 49 il Pietramonte Corvino 45 per il Roseto 40 Rocca Sicura Comprensero Verano 39 a 36 Celluluri Castelmaro 33 32 per il Baranello Molise 28 25 per la Cliternina Ferrazzano 23 Sant'Egliana e Termoli 22 punti 16 per il Chieuti 14 Carovilli e Casanovo Monte Rotaro Vittoria interna dell'Ururi contro il Casanovo Le neopromosse Ururi e Casanovo Monte Rotaro si sono rincontrate nella settima giornata di ritorno Gli uomini di Campofredano come nella giornata di andata si sono imposti sui pugliesi chiudendo il match sul 2 a 1 A sesto pericoloso Camillo dall'angolo in Trevado con la mano sinistra mette in angolo al ventitresimo occasione bruciata per l'Ururi Gaggiano batte la punizione ma Casano si distende e para al ventiquattresimo il Casalnuovo a non cogliere l'attimo due volte sfiora il gol sia Camillo ma in Trevado col corpo dice no sia Orsi il suo tiro viene deviato al trentesimo D'Arienzo mette in mezzo tocca col braccio beccia il signortano della sezione di Termoli dà il penalty all'Ururi sul dischetto Gaggiano che punta all'angolino sinistro e va in rete Ururi 1 Casalnuovo 0 passano 13 minuti e questa volta il rigore per il Casalnuovo a causa del contatto in aria tra Intrevado e Camillo a battere il rigore Orsi tiro centrale e freddo 1 a 1 si rientra dall'intervallo al terzo minuto Camillo dalla bandierina a lunga perfaenza e frate a salvare sulla linea meno di 60 secondi Nardella entra prepotentemente in aria di rigore e segna in diagonale Ururi 2 Casalnuovo 1 il Casalnuovo passa da gol mancato così a gol subito al 21esimo annullato il gol di Ururi di Rossi su assist di Pangia per fuori gioco il match si chiude con una bella immagine di sportività in campo Casano aiuta il suo avversario Campofredano colto da Crampi al triplice fischio Lururi che ha consolidato la zona salvezza ora punta ai playoff il Casalnuovo pensa alla sfida con la prima della classe Il Castelmauro ha conquistato i tre punti a Ferrazzano Due golle e tre punti pesantissimi per il Castelmauro che con la vittoria a Ferrazzano blinda praticamente la corsa alla salvezza diretta al terzo minuto la gara già si sblocca grande assist centrale di Cesaro per D'Ascenzo che solo da parte a Gibetto Fratangelo non fallisce e realizza l'1-0 per il Castelmauro i ragazzi di Jannetta hanno però quasi subito l'occasione per raddoppiare per questo calcio di rigore concesso per fallo su Paolucci lanciato a rete come si vede dalle immagini la spinta è plateale ed è evidente sul dischetto va Cesaro che sbaglia il Ferrazzano ci mette un po' a riorganizzarsi e reagisce soltanto all'undicesimo con il lo con questo tiro da lontano che chiama Sedile alla parata per non correre rischi al 27esimo però Sedile è letteralmente miracoloso sulla punizione di Ricciardi diretta verso la rete al 39esimo ci prova ancora il Ferrazzano con Dipetto che calcia però alto dal limite e lo stesso Dipetto due minuti dopo trova un grande Sedile sulla sua strada che evita il pariggio del Ferrazzano nella ripresa il Castelmauro prova subito a contenere gli attacchi del Ferrazzano che deve recuperare il punteggio e al primo minuto Barletta chiama alla parata Sedile che si rifugia in angolo il Ferrazzano prova a spingere ma il Castelmauro si difende con un certo ordine al 21esimo Cannavina si trova solo davanti a Sedile ma non riesce a calibrare l'altezza del pallone che si perde di poco oltre la traversa nei minuti successivi c'è uno scontro durissimo tra Mancini subentrato dalla panchina lanciato a rete con Gilberto Frattangelo che lo ferma in uscita i due rimangono a terra per qualche minuto ma alla fine la peggio sarà per il portiere del Ferrazzano a cui vanno i migliori auguri di pronta guarigione mentre Mancini si rimette in sesto la partita va avanti senza particolari strappi se non per il gelo con la temperatura che scende fino a meno un grado sotto lo zero fino alla fine al 49esimo controllo entrato dalla panchina lanciato a rete trova Sanne di fronte a lui e lo supera con un bellissimo pallonetto che va ad insaccarsi nell'angolo lontano sigillando il 2 a 0 anzi congelando vista la temperatura del Castelmauro che in pratica blinda la salvezza diretta lasciando il Ferrazzano con un palmo di naso nella corsa all'obiettivo stagionale pesistica Fabio Suliani atleta del Team Mosca di Campobasso si è imposto negli assoluti di pesistica olimpica nell'ambito della categoria dei meno 77 kg il molisano nello strappo ha sollevato 135 kg nello slancio 160 per un totale complessivo di 295 kg possibile una convocazione in proiezione europei che potrebbe garantirgli un ingresso nella lista in prospettiva di Tokyo 2020 adesso il campionato di prima categoria diciannovesima giornata nel girone A della prima categoria Castella di Sangro Boessa Varano 2 a 1 Forum Sporting La Pietra 2 a 1 Pozzilli Domenico Di Sisto 0 a 4 Real Prata Macchia 1 a 3 Rocca Ravindola Rora Capriatese 0 a 1 Rufri Presenzano Masseria La Corte 0 a 1 Fornelli Ala Fidelis 0 a 2 Volturni Calcio Atletico Mignano 4 a 1 45 Rora Capriatese 44 Seguila La Fidelis 42 Forum 40 Castel di Sangro 39 Domenico Di Sisto Di seguito tutte le altre Per il raggruppamento B Questi risultati Campobasso Calcio Quartiere Campobasso Nord 0 a 3 Chiauci Miravello Calcio 1 a 2 Don Chiesagnone Real Gildone 4 a 0 Mondimitar Altretico San Pietro In Valle 1 a 3 Pesche Trivento 1 a 1 Ripalimosani Maronea 0 a 4 San D'Angelo Limosano Cerce Piccola 2 a 4 Vinchiaturo Carpinone Calcio 1 a 5 Il girone B Vedo in testa Quota 40 Don Chiesagnone Trivento 37 34 4 per il quartiere Campobasso Nord A 33 Troviamo Ripalimosani San D'Angelo Limosano A Trenico San Pietro In Valle 32 Campobasso Calcio Di seguito Le altre Chiudiamo Con il raggruppamento C Della prima Altilia Samnium Gruppo GSM 2 a 1 Campomarino Trecoli Rotello 2 a 1 Guardia Alfiera Calena 3 a 2 Macchia Al Fortore Fiammalarino 3 a 1 Rinviata Matrice Polisportiva Fortore Petacciato Biccari 0 a 0 Portocannone Fortore 41 29 Per il Matrice 28 Casalida 27 Per Turris E Petacciato Di seguito Le altre Vi ricordo L'appuntamento Con Molise A Calci Questa sera Insieme a Gianni Bruno Cecilia Di Lauro Avremo ospiti Commenti E naturalmente La nostra Attesissima Moviola Molise A Calci Stasera Alle 21 Sempre e solo Su Telemolise Bene È tutto Per questa edizione Del nostro TG Sport Buon pomeriggio Buon pomeriggio